oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino buon pomeriggio di nuovo io sono lorenzo non c'è bisogno di dirlo perché voi sapete già il mio nome e per la rubrica serie tv noi vi recensiamo trolls trostopia questa divertente animazione riprende da dove trolls war tour si era interrotto nel secondo film cioè trolls war tour diretto da walt dorn e con le voci di anna kendrick e justin tiberlake pop e branch hanno scoperto che nel mondo dei trolls non esiste soltanto la loro città bensì sei diverse tribù che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica funk country techno classica pop e rock i due protagonisti hanno dovuto poi affrontare una nuova minaccia la barbe e suo padre il il re trash del mondo del rock la nuova serie animata cioè trostrostopia riprende dunque da qua poppy dopo aver scoperto che esistono ben sei diverse tribù di trolls ognuno è identificata da uno stile musicale ben preciso country music o western rolls techno trolls ad rock trolls e classico trovo 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 se fang trovo desidera fare amicizia con loro così la protagonista invita gli ambasciatori delle diverse tribù a visitare troll village il villaggio dei trolls e con la speranza che possano vivere in armonia di una nuovissima e una nuovissima trostopia ma poiché i rock trolls si dimostrano una sfida più grande del previsto poppy deve trovare un modo per mettere tutti da cotto tu unisciti a poppy nel suo viaggio e ne lavora con lei per promuovere per promuovere amicizia e armonia tra i personaggi principali di trostostopia noi troviamo la regina poppy la dolce ottimista regina dei trosti che anche ha inventato l'esperimento trostopia branch è un troll pop sopravvissuto troppo cauto ma di buon cuore è il migliore amico di poppy valta the shark è l'ambasciatrice che rappresenta gli art rock trolls risiede a rock hollow holly darlin è l'ambasciatrice che rappresenta i country western trolls risiede a country coral dante crescendo il compositore reale l'ambasciatore che rappresenta i troll classici i trolls classici risiede a classical crest low note jones è l'ambasciatore che rappresenta i fan cross e risiede a vipetown singe l'ambasciatore che rappresenta i tecno trolls risiede a techno lagoon demo un troll art rock è il match è il manager della band di val ghost tumbleweed un troll country western e lo scerife di country coral minuet suonata una troll classica e amico e amica di dante che suona il violino ritme blues una coppia di sorelle punk trolls e scienziate in ventrici con la citazione di lisa laud e di a casa di laude laguna tide pool un'intelligente antologista techno troll e moltissimi altri personaggi sette ciniglia di gesù chi minuta grandino il signor dinkos gai diamante tini diamante il villain il conto lori e il signor nuvola il signor nuvola che infastidisce che infastidisce branch e moltissimi altri personaggi i doppiatori il cazza boccale originale comprende scala rostin amanda lakton david flin rom frances kennan thompson lorenzo sanders megan hilti jenny meson katie graham e kevin michael richardson matthew binza è il produttore esecutivo come era accaduto anche con con la con la con la serie animata precedente tross la festa continua io vi consiglio di vedere sia tross la festa continua di netflix e trostropia di quello noi lo stiamo vedendo adesso ciao a tutti ciao ciao sono arianna e oggi vi parlerò dei primati di torino la lampadina elettrica a filamento di carbonio venne realizzata dall'autodidatta scienziato operaio alessandro cruto che lavorava in uno stabilimento a piossasco in provincia di torino cruto seguiva la sera le lezioni all'università di fisica di torino quando il 4 marzo 1880 riuscì ad accendere la sua prima lampadina nel gabinetto di fisica della stessa università la luce era bianca vivida e intensa ed il costo di produzione di gran lunga più basso di quello della lampadina di edison la lampadina di cruto trionfò all'esposizione di monaco nel 1882 nell'aprile ditte il 1884 cruto illuminò le strade di torino esattamente otto mesi prima che edison illuminasse place della concorde a parigi e l'anno precedente aveva già illuminato il suo paese piossasco gli stati uniti acquistarono il brevetto di cruto che aveva dalla sua parte già diversi primati fu il primo di illuminare un battello un ospedale e il primo di illuminare un treno ad aosta ciao a tutti sono davide e per torino curiosa presento corpus domini e il miracolo dell'eucaristia questo miracolo che risale a circa 560 anni fa quando durante la guerra tra piemonte e francia un gruppo di soldati francesi saccheggiò la chiesa di exil e rubò anche il santissimo sacramento i soldati raggiunsero quindi torino portando l'aria furtiva sul mudo per per rivenderla arrivati alla porta palatina il 6 giugno del 1453 il mondo che trasportava l'ostia consacrata inciampò e cadde sgualcendo i sacchi con l'aria furtiva e facendo fuoriuscire il contenuto dalle cronache sembra che il sacramento liberatosi in aria abbia nominato la piazza a corso il vescovo ludovico da romagnano l'ostia si sarebbe deposta sul calice rubato dai ladri che venne portato in processione nel duomo di torino buongiorno a tutti io sono riccardo e oggi vi leggerò un vi leggerò un testo dal titolo invito sorpresa non era davvero previsto avevamo ancora del lavoro da sbrigare per il giorno dopo eravamo passati solo per un'informazione e poi ecco rimani a cena da noi però ti accontenti di quello che c'è i pochi secondi in cui sentiamo arrivare la proposta sono deliziosi per l'idea di prolungare un momento piacevole certo ma anche per l'idea di scompigliare il tempo la giornata era stata del tutto prevedibile la serata si annunciava sicura e programmata e ora in due secondi una ventata di gioventù si può cambiare il corso delle cose a bruciapelo naturalmente accettiamo in questi casi niente di raffinato non vieni regalato in una poltrona del salotto per un aperitivo in piena regola no la conversazione ci crogiola in cucina aiutami magari a sbucciare le patate con un pela patate in mano si dicono cose più profondi e naturali si può mangiare al volo un ravanello invitati a sorpresa ci sentiamo di famiglia di casa ci muoviamo senza limitazioni abbiamo accesso ai ripostigli agli scaffali dove la tieni la senape ci sono profumi di scalogno e prezzemolo che sembrano venire dal passato da una convivialità lontana forse quella delle sere quando facevamo i compiti sul tavolo di cucina le parole si diridano non c'è più bisogno di tutte quelle frasi che sgorgono sgorgano senza posa adesso la cosa migliore sono gli stacchi dolci tra una parola e l'altra nessun imbarazzo sfogliamo un libro a caso della biblioteca una voce dice credo che sia pronto e rifiuteremo l'aperitivo proprio così prima di mangiare ci sediamo chiacchierare intorno alla tavola parecchiata i piedi sulla stecca un po alta della sedia impagliata invitati a sorpresa ci sentiamo bene liberi leggeri con il gatto nero di casa ciambellato sulle ginocchia ci sentiamo adottati la vita si ferma si è lasciata invitare a sorpresa propria già tutti il mio nome è federico è quasi sempre in quello a vuoto della mattinata quando il tempo non te le pia niente dimenticare le tazze e la vecchia della prima colazione ancora lontani i profumi di cottura del panso la cucina è calma quasi è stata sulla tavola di plastica un foglio di giornale un mucchio di piselli ancora nel guscio una ciotola non arriviamo mai all'inizio dell'operazione attraversavamo alla cucina per andare in giardino per vedere se è arrivata la posta posso aiutarli ma certo che possiamo è facile scanare i piselli una pressione del pollice sulla costola del barcello e quello si apre docile offerto alcuni meno maturi sono più recalcitanti un incisione dell'unghia permette allora di lacerare il verde e di sentire l'umidore e la polpa densa appena sotto la buccia falsamente scavrosa poi si fanno scivolare giù le palline con un solito l'ultima è davvero minuscola talvolta viene voglia di mangiarla non è buona un po' amara ma fresca come la cucina alle 11 la cucina dell'acqua fredda delle verdure mondate lì accanto al labello alcune carote nude pegliano su uno strofinaccio finendo di asciugare allora ci interliniamo alle parole e anche in questo caso la musica sembra che venga da dentro placida familiare di tanto in tanto alziamo il capo per guardare chi ci sta di fronte alla fine di una frase ma che ci sta di fronte deve tenere il capo chino è la regola parliamo di lavoro di progetti di stanchezza ma di psicologia scanare i piselli non è un'attività concepita per spiegare ma per seguire ritmo il leggero controtempo basterebbero cinque minuti ma è piacevole prolungare allentare mattino baccello dopo marcello passiamo la mano nelle palline sgranate che riempiono la ciotola sono morbide tutte quelle oltre dita contigue formano come un'acqua verde chiaro e ci meravigliano di non trovarci con le mani bagnate un lungo silenzio di benessere limpire poi c'è solo da andare a confere il pane grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata